Gentili telespettatori, buona giornata. Il governo di Orban parla ancora di Ilaria Salis. Però chi ne dà notizia? I giornali di sinistra? No. Giornali di destra. Ogni giorno i giornali di destra hanno quest'obbligo di parlare della Salis. Attenzione che, secondo me, dopo che Roberto Salis, il padre di Ilaria, ha querelato alcuni giornali di destra per aver detto delle cose che lui dice non vere, i giornali di destra hanno detto, ah sì, adesso ti facciamo vedere noi, tiriamo fuori tutto, andiamo a vedere. E' così ormai è mesi che i giornali di centrodestra tutti i giorni parlano in prima pagina di Ilaria Salis, creandone un personaggio conosciutissimo, più di un attore di Hollywood. E oggi ci fanno presente che il governo di Orban di nuovo contro la Salis. Quindi lo sappiamo tramite i giornali di centrodestra, perché gli altri giornali, quelli di sinistra, la Salis non se la calcolano più. Qualcuno dice che non ne parlano perché si vergognano. Ma figurate, ma secondo voi la Stampa, la Repubblica, si vergognano della Salis? Ma state scherzando? Questi vanno orgogliosi della Salis. Ricordatevi che la Salis è stata un'operazione incredibile, mai successa prima, di come riuscire attraverso la politica a tirar fuori una persona dal carcere. Questa è un unicum al mondo, non era mai successa una cosa del genere, che una incarcerazione preventiva in attesa, detenuta in attesa di processo, si candidasse a delle elezioni europee per poi essere eletta e uscirne. E' una roba da film, sicuramente ne faranno un film, vedrete. Va bene. Allora, nell'Europarlamento subito i patrioti, quelli che si definiscono patrioti, vanno contro questi Laria Salis dicendo anarchica sfuggita alla giustizia. Sì, è vero, anarchica sfuggita alla giustizia. In questa frase non c'è niente di falso, è una fotografia della realtà. È una persona di estrema sinistra che era detenuta in un paese di estrema destra che tramite l'aiuto dei partiti italiani di estrema sinistra è stata candidata e si è salvata dal processo. Quindi, quando dicono anarchica sfuggita alla giustizia, è vero. Anche lei non è che credo abbia nulla da ridire su questo. Anarchica sfuggita alla giustizia. Beh, lei oggi dice che lei era dentro per motivazioni politiche. Beh, anche, 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 certamente, anche, anche per motivazioni politiche. Se la Salis fosse stata un estremista di destra in Ungheria, per fatti simili verso estremisti di sinistra, non sarebbe andata in galera. Non so se avete capito. Se fosse stato a cose inverse, non sarebbe andata in galera. Se la Salis fosse stata un estremista di destra da Orban, non sarebbe andata in galera. Quindi, diciamo che c'è una bella parte politica in quella detenzione. Comunque sia, ormai è archiviata, perché questa roba qui non andrà più avanti. Metteteci una pietra sopra. E così, dice, conoscete, dice il portavoce del governo Orban, Zoltan Kovacs, che scrive su X, Conoscete Ilaria Salis, l'anarchica che è sfuggita alla giustizia diventando una parlamentare europea? È tempo di ripercorrere i fatti che hanno portato alla detenzione di Salis in Ungheria. Caro Zoltan, ripercorri tutte le volte che vuoi i fatti. L'altro fatto, sicuro e certo. è che l'hanno votata, un certo numero di italiani l'ha votata, in un partito che ha passato la soglia di sbarramento, è stata eletta. Finito. Punto e basta. Queste sono le leggi europee, lo hanno permesso, è stato fatto e basta. Capisco che i giornali di centrodestra debbano andare contro, perché c'è la querele, allora l'ordine è andare contro la Salis. Ma quell'andare contro la Salis ne ha creato un mito, molto di più di Carola. Quindi la Salis oggi è molto più famosa di Carola. E questo all'80% grazie ai giornali di centrodestra che volevano fargliela pagare, e hanno creato un mito. come i giornali di sinistra hanno creato Vannacci. Guardate che Vannacci e la Salis devono ringraziare i giornali italiani, perché i due, Vannacci ha fatto i milioni con i suoi libri, grazie alla sinistra, è buon per lui. La Salis oggi ha uno stipendio di 20.000 euro, e forse ce l'avrà per tutta la vita, grazie in gran parte alla destra italiana. Quindi, i giornali hanno creato due nuovi benestanti. E così è, che vi piaccia o no, Vannacci e la Salis sono lì in Europa, creati dai nostri giornali, di destra e di sinistra. Ecco, se volete occuparvi anche di me, mi piacerebbe diventare milionario. Quindi, cari giornali di sinistra, se volete occuparvi anche di me, mettetemi in prima pagina per un bel po' di settimane, così al prossima elezione divento un deputato italiano, e quindi mi siederò vicino a Salvini. Senti Salvini, che facciamo oggi? Ci mangiamo una pizza. Ma tu non eri quello che parlavi male di me. Ma sono cose vecchie. Capitan, sono cose vecchie. Andiamo a mangiarci una pizza. Va bene. A parte la pizza con Salvini, poi naturalmente l'eurodeputato austriaco dice c'è una deputata Salis che picchia le persone. Ecco, poi arriva il deputato, Maier, che lui ha già la sentenza. Visto che, parliamoci chiaro, la gente sulla Salis, molti hanno già espresso la sentenza. Per l'opinione pubblica di destra la Salis è colpevole. Però in realtà, in realtà, a parte quello che uno immagina, in realtà non c'è stata mai una sentenza, non c'è stato un processo, i testimoni non hanno identificato la Salis. Questo non vuol dire che non sia stata lei. Però non c'è una sentenza. Ma il popolo di destra ha deciso che lei è colpevole. Poi magari lo è, attenzione, magari lo è, magari lo è, però bisogna essere garantisti. Fino all'ultimo grado di giudizio, ma lei non avrà mai un giudizio. Quindi il giudizio deve essere sospeso. Che vi piaccia o no, è una che si immagina abbia fatto quella roba lì, ma non ci sono prove e non c'è processo. Quindi è eurodeputati che dicono che una che picchia le persone è diffamazione. Quindi io credo che questa Salis potrebbe farsi tanti soldi denunciando tutta sta gente qua per diffamazione. Dici, dove sono le prove che io picchio la gente? Mi hai diffamato? Ecco, insomma, io vi dico sempre quello che penso. Capisco che le tifoserie sono schieratissime sulla Salis, però guardate, io non tifo per nessuno. A 50 anni non tifo per questi politici qua. Ma li avete visti? Li avete visti o no? Li avete sentiti parlare? Ma avete visto come vi prendono in giro? Quindi, secondo voi, io faccio il tifoso di quella gente qua e la chiamo volutamente quella gente qua, come parla Bersani, quella gente qua, quella roba qua. Volutamente sto parlando con un linguaggio più basso, perché questi politici si meritano un linguaggio basso. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie. Grazie.